Sfoggia ancora una volta le sue capacità camaleontiche sul tappeto rosso. Laura Chiatti ha scelto un look decisamente particolare per l'anteprima romana di Rapunzel, l'intreccio della torre. L'attrice Umbra, che ha prestato la voce alla protagonista del film di animazione Disney, è arrivata all'evento con calze parigine, accessorio che adora, cappello a bombetta e soprattutto un'acconciatura con treccine. Non è sfuggita in più la somiglianza con il personaggio televisivo di Pippi Calzelunghe. Grazie. 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 Grazie.